Buongiorno da Torino Cronaca, ci troviamo ad Alpignano, quella che vedete alle mie spalle è la locale stazione dei Carabinieri dove è stata lanciata una bomba molotov, un ordigno che è esploso, proprio qui nella recinzione per fortuna non ci sono stati feriti, l'evento è avvenuto nella notte, i Carabinieri stanno indagando per trovare il responsabile di questo gesto che potrebbe essere opera appunto nel follo di uno squilibrato ma non si esclude anche la pista anarchica soprattutto perché a Torino proprio domenica c'è stato un corteo degli anarchici e alcuni dei membri di militanza anarchica vivono anche nel comune di Alpignano di conseguenza gli investigatori sono al lavoro per trovare i responsabili del lancio di questa bomba.